14 chili di cocaina sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di napoli avrebbero fruttato oltre 4 milioni di euro erano nascosti in grossi cilindri metallici il maxi sequestro è avvenuto nell'ambito del permanente dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti approntato dal nucleo di polizia tributaria basato su una profondità attività di analisi dei dati raccolti sul territorio e su un'azione info investigativa a largo spettro si tratta di un ulteriore durissimo colpo inferto al traffico internazionale di droghe destinati a rifornire il fiorente mercato partenopeo storicamente controllato da numerosi clan della criminalità organizzata sempre più violenti ed in lotta tra loro per il controllo delle piazze dello spaccio all'importante risultato si è pervenuti quando le fiamme gialle partenopee grazie all'approfondimento di transazioni commerciali sospette hanno individuato una spedizione di generatori di corrente per uso industriale provenienti dalla penisola iberica giudicata inusuale per modalità caratteristiche documentazione di accompagnamento le indagini hanno condotto ad un'ignara impresa di spedizione di napoli presso la quale i dispositivi erano arrivati a seguito dell'ispezione effettuata sui macchinari anche con l'impiego di unità cinofile i finanzieri hanno scoperto all'interno dei rotori in acciaio l'ingente quantitativo di cocaina per il sezionamento dei pesanti cilindri di spesso acciaio si è reso necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco la cocaina che è risultata di pregiata qualità e di elevatissima purezza avrebbe fruttato agli organizzatori dell'elecito narcotraffico una volta posta in vendita sul mercato al dettaglio fino a 4 milioni di euro gli investigatori ora stanno proseguendo le attività di accertamento per arrivare all'individuazione dei fornitori e dei destinatari della partita di droga